Sindaco Alessio Biagioli, l'inaugurazione oggi di un'immagine sacra nel tabernacolo di Via Giusti può rappresentare anche un momento di aggregazione sociale? Innanzitutto il recupero di un'opera d'arte e di un luogo simbolo perché un tabernacolo è comunque un luogo identitario di un territorio, segna un passaggio, segna a volte un cultoponimo è sempre un elemento positivo e chiaramente il fatto di farlo, di viverlo con la comunità con le persone che ci stanno intorno, che lo sentono anche con la riappropriazione di un bene proprio di un bene pubblico, è estremamente un momento di fiducia, di un momento collettivo che non può dare gioia e soddisfazione, una bella inaugurazione anche se è una piccola cosa però riempie veramente bene.